Buongiorno Giovanni, buon tardi. Grazie per l'intervista. Abbiamo avuto l'apertura di Quantur Global di Planta Novo. Abbiamo cominciato nel transcorso di mezzo anni passato. Abbiamo arrivato il turno con un'apertura ufficiale con i nostri stakeholder in cui abbiamo avuto l'apertura di Quantur Global che viene da Giafò per attenzione. Il contenuto di Planta Novo è 5 macchini nuovi che sono dry e riva di heavy fuel che attualmente è il combustibile più economico che si può usare per produrre l'Oriente. Abbiamo anche un corso agriaco che si è abbandonato nei ruoli. Abbiamo avuto l'apertura con l'app con la nostra turma. Abbiamo avuto l'apertura con 5 macchini nuovi per avere la capacità e la quantità di agriaco che avevano usato per produrre l'Oriente. Abbiamo avuto l'apertura che sia parte della batteria che sia parte della produzione di coriente? Correggio. Il sistema di batteria è un sistema nuovo che è un sistema di batteria che è un sistema di batteria che è molto moderno che è stato profondo che sia parte della regione. Abbiamo avuto l'opertura in tutto il conto. Abbiamo avuto l'aereo che abbiamo fatto un progetto che ci sono dicevano in profondo che ci sono i nostri spettatori e ci sono i nostri investimenti in ControGlobal e ci sono ancora un'energia verde. Il sistema è energia verde, è una energia che si può usare a lavorare mondialmente, ma che si può essere bene solo con il vento, senza un backup. Se non c'è il vento, non c'è la batteria, non c'è la produzione corrente per il popolo, se non c'è solo, c'è una storia. Ma di tutte le mani, ci sono i nostri spettatori e il backup, quindi il backup è il sistema di motore che si può usare a lavorare mondialmente. Capacità per Buoneiro, ControGlobal, è sufficiente capacità a lavorare per Buoneiro? Capacità per Buoneiro, è correcto. Noi, attualmente, abbiamo sufficiente capacità per cumplire tutte le demandi di corrente che ci sono in Buoneiro, attualmente. Però, non ci sono dubbiate che il Buoneiro continua a crescere. Abbiamo diversi proiecti nuovi, che ci sono basi a lavorare per cominciare. C'è un anno qui, appartamento complexo, hotel, casco nuovo di fondazione. Tutti qui ci sono spettati, il consumo di corrente di Buoneiro è subito. però, a mezzo, è mirando, come si è mirato al futuro, noi sono dissi, io ricordo con la trope, con l'app, con la città, con la città, con la città alla messa, con l'epa, con le compagnie, con la città che distribui la corrente. Quindi, noi siamo arrivati alla soluzione. Io ricordo, noi ci sono città, il sistema è nuovo. ma c'è una certa riserva con la demanda cresce ma non c'è ancora sufficiente riserva per una corriente duradera nel Pueblo di Bolero.